Ciao e bentornati su Annesi e Sari Pixels. Io sono Paolo e oggi parliamo di Defect, Spaceship Destruction Kit. Che cos'è Defect? Defect è un gioco in accesso anticipato sviluppato da Three Phase Interactive che racconta di un capitano di una nave spaziale i cui membri dell'equipaggio disertano più volte tutte le missioni. Allora, cominciamo in ordine. Che cos'è Defect? Defect è composto da due parti. Una parte in cui si costruisce la propria astronave, la seconda parte nella quale si usa questa astronave per compiere delle missioni, abbattere delle altre astronavi e poi vederla portata via dal proprio equipaggio che ha disertato. E fin qui tutto potrebbe essere abbastanza normale. Appena finisce la prima missione, l'equipaggio diserta si porta via la nave, noi costruiremo una nuova nave per andare a caccia della nostra vecchia nave. Quindi, a partire dalla seconda missione, a tutto quello che ho detto, si aggiunge il distruggere la nave che precedentemente ci hanno rubato. Ci si muove all'interno dello spazio muovendo con i tasti WASD la direzione su un indicatore rotante attorno alla nave e con il tasto avanti dando degli input di spinta alla nostra astronave che proseguirà pertanto in linea retta e che per essere fermata sul posto bisognerà aspettare o che la propulsione che abbiamo dato esaurisca il suo momento e quindi fermi la nave in maniera automatica oppure con una spinta esattamente nella direzione opposta. In più, sulla nostra astronave abbiamo montato delle armi che potranno sparare automaticamente ai bersagli che si trovano in raggio. In tutto questo, oltre a tutto questo che ho detto, possiamo anche prendere il controllo di parte dei nostri sistemi quindi che siano le armi, che siano i motori, che sia lo scafo le parti delle quali avremo preso il controllo agiranno in maniera estremamente più efficiente. Quindi, per fare un esempio, se io non prendo il controllo di nulla quando la nostra nave si avvicina in range a una nave nemica i cannoni automaticamente spareranno una raffica di colpi sparando, non so, 6-7 proiettili. Se invece noi avremo preso in mano il controllo dei cannoni potremo sparare in maniera continuativa e quindi non dover aspettare che, diciamo, la nostra raffica si ricarichi ogni 2-3 secondi. Dovremo combattere con parecchie navi in ogni missione ogni missione avrà i suoi obiettivi che potranno andare dal abbattere una serie di formazioni di navi a impedire che certe navi scappino a altre cose e raccogliere quello che sono le macerie delle navi che abbatteremo. Raccogliere le macerie ci permetterà di avere un budget per costruire una nave il round successivo. Alla fine del round andremo a sconfiggere la nave che abbiamo che ci hanno rubato nella missione precedente una volta fatto questo il nostro nuovo equipaggio disarterà di nuovo lasciandoci di nuovo nello spazio da soli il che ci porta alla meccanica più interessante del gioco ci sono un paio di cose in questo gioco estremamente interessanti la cosa più interessante è che è l'insieme della capacità di costruire delle navi con un'interfaccia abbastanza semplice, abbastanza veloce, abbastanza immediata forse che manca un pochetto di chiarezza ma che comunque fa il suo lavoro in maniera efficace e il fatto che la nave che noi andremo a costruire dovremo poi abbatterla nel round successivo quindi ogni volta dovremo andare a costruire una nave che sia sì sufficientemente potente da permetterci di finire la missione ma anche che sia sufficientemente debole da essere abbattibile il round successivo il che è parecchio interessante perché lo scopo non diventa più costruire una nave che sia il più forte possibile ma costruire una nave che sia efficace ma gestibile ho letto un interessantissimo commento che mi è piaciuto moltissimo non mi ricordo l'ho letto forse su una recensione o su una recensione su Steam che dice finalmente la morte del round senso cioè ha senso costruire delle cose estremamente potenti che poi però siano in qualche modo abbiano dei punti deboli che siano in qualche modo sfruttabili da noi stessi per abbatterle dicevo il gioco è in accesso anticipato la cosa sulla quale più di tutte secondo me dovrebbero lavorare gli sviluppatori è aggiungere della varietà a questa struttura perché il gioco purtroppo soffre di una certa ripetitività nelle missioni almeno nelle prime tot missioni che ho visto io e sicuramente variare questa cosa potrebbe essere molto 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 piacevole sulla sinistra adesso sul video adesso che vedete alla mia sinistra potete vedere un momento esattamente di quelli che vi stavo dicendo cioè una nave estremamente grossa estremamente molto più grossa della nostra che è molto difficile da abbattere ma che noi abbatteremo in maniera molto semplice utilizzando il suo punto debole vedete che è bastato praticamente un colpo al core che è quello che mantiene diciamo la nostra nave viva e che noi stessi dovremo proteggere e dovremo cercare di abbattere dei nemici Defect Spaceship Destruction Kit costa 14,99 euro su Steam in questo momento come diceva in un gioco in accesso anticipato secondo me è molto interessante questa possibilità di costruire delle navi e poi combattere contro le navi che abbiamo costruito noi stessi come vi dicevo è stato sviluppato dai 3 Phase Interactive secondo me è un gioco abbastanza carino che se riuscissero ad avere un po' più di varietà potrebbe essere molto molto interessante va bene anche per questo episodio è tutto io vi ringrazio per avermi seguito ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao